La Compagnia della Guardia di Finanza di Fano, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Pesaro, ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente per un importo di circa 150.000 euro del denaro presente nei conti correnti bancari e di altri beni nella disponibilità di un imprenditore 38enne di Fano, responsabile di una consistente evasione fiscale. Fondamentale per le indagini è stata la sinergia tra Procura, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. A seguito di un controllo per omesso versamento di ritenute fiscali per l'anno di imposta 2016, eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del rappresentante legale di un'impresa di confezione e di abbigliamento situata nel comune di San Costanzo, è stata fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari di Pesaro poi ha accolto la tesi della Procura ed ha emesso il decreto di sequestro preventivo per equivalente di denaro e beni fino alla concorrenza dell'importo dell'evasione fiscale. Infine, la compagnia di Fano ha effettuato gli ulteriori accertamenti per la ricostruzione della capacità patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore 38enne. Al termine delle indagini è stato possibile sottoporre a sequestro alcune disponibilità liquide presenti su conti correnti bancari pari a circa 12.000 euro e due unità immobiliari del valore di circa 140.000 euro, raggiungendo così la capienza prevista.